Allora, salve gente, oggi vi farò imparare, diciamo, il solfeggio, perché ci tengo molto al buoni, giustamente. Vi reggiamo, vieni qui, mi quadro, mi quadro. Allora, questo qui è uno schema che ho fatto io, grandissimi, già, grandissimi. Allora, questo schema l'ho fatto io. Quindi, praticamente, è il solfeggio, uno, due, tre, quattro. Allora, praticamente, questo schema ha dei numeri uno, due, tre, quattro, come la matematica, no? Ma, in realtà, quei numeri non si contano tipo uno, due, tre, quattro, no, si dice do, ve, mi, fa. E fino a fa si fa il solfeggio. E questo l'ho studiato io, poi quando studierò altre cose lo dirò a voi, gente, per farlo imparare anche a voi. Allora, praticamente, questo è un do, un do, e vale uno, due, tre e quattro. E si fa così. Quattro secondi, ovviamente, vale, che si dice quattro quarti. E si fa così. Do, do, o, o, o. Immaginatevi uno schermetto come questo, una croce con scritto dei numeri, diciamo, però a lettera, a lettera, no, a numero 1, 2, 3, a lettera, fidatevi, perché tu mica dici, mica scrivi, no, dici, parli. Quindi, poi, questo qui è un re, un quadrameggi. Fate finta che questo sia il vostro pianoforte, il vostro pianoforte, quindi il re sta sotto il pianoforte, sotto, e si fa così. Allora, re, e, 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 poi dal re passiamo al mi. Oh, è caduto tutto. Wow, è crollato. Regia, c'è un terremoto. Tutto a posto. Un infarto. Allora, il mi, questo qua è il mi. Il mi. Tutto a posto, abbiamo cambiato oggetto, una gommina, una gommina qui. Allora, signora regia, stavamo dicendo il mi, che il mi si dice così, mi, i, 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 i. Ovviamente, io mo' lo sto facendo piano, però sicuramente questo va molto veloce. Molto veloce. Tipo, un do. Subito dopo che fai do, o, 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 fai subito l'altra lettera. Così. Do, o, 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 re, e, e, e. Capito subito? Perché se vi fermate, non dovete stare lì a dormire. Voi siete una testa di banana. Lo dico. Allora. Passiamo, ovviamente, dopo, al re. No. Scusate. Al fa. Allora, il fa. Il fa è, immaginatevi, aspettate, immaginatevi, uno, due, tre, quattro, diciamo, questi, questo, è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. A otto si inizia tutto. Quindi, per esempio, vi suono questo, tutto questo, quello che abbiamo imparato del solfeggio, che vi ho fatto vedere il solfeggio. Questo è un Do centrale. Il Do centrale inquadra Legia, ingrandisce. Grazie Legia, sia molto utile. Allora, questo è il Do centrale. Questo che sta vicino alla scritta Yamaha, oppure a qualsiasi scritta del pianoforte. Sta vicino, mi raccomando, non sotto. Perché se è sotto, è il Fa. E non va bene. Ve lo assicuro, non va bene. Poi. Fa. Do. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Na. Sol. Na. Zitto. E praticamente questa è la scala, il solfeggio della scala. Allora, a che batteria sta la fotocamera? Buona? Sì. Ok. Bravo Reggio, bravo. Allora. Dal Fa. Passiamo al Sol. Allora, il Sol, sì, sta su una lineetta. Voi penserete, tipo, sta qua il Sol. Ma no, sta qui il Sol. Sta qui il Sol. Ma solo con le semi brevi sta qui il Sol. Capito? Perché se tipo mo' io prendo un altro libro. Aspetta. Allora, abbiamo preso il libro. Allora, vedete qui. Allora, vedete qui. Allora, il Sol è su una stanghetta. Su una stanghetta. Questo qui che sto indicando. Bravo, ingrandisci. Allora. Allora, praticamente, vedete. Questo qui. Questo qui. è un Sol, però, in modo diverso, perché è un'altra nota che vi dirò nell'altro video che farò, non so quando, perché non ho orari. Quindi, Tim, proprio organizzato, eh. Organizzato. Allora, avete visto quel Sol che è diverso? Quindi, passiamo di nuovo a questo. Il Sol, il Sol si fa. Allora, dal Sol passiamo al La. La. Aspetta, vedete, è pieno qua. La. Ingrandisci, regia. Questo qui. Mi sento un attimo perché sto scomodo. Grazie. Allora. La. La è questa parte del pianoforte dopo il Sol. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, si. Questo è la. E, praticamente, in realtà, io faccio uno, due, si. Ma in realtà si fa. Vieni, giù. In quadra, in quadra. Questo è Do. È molto importante sapere le note. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E dopo, si riattacca di nuovo il Do e si riinizia tutto da capo. Allora. Oggi facciamo, ehm, per la parte due facciamo questo pure. Però oggi facciamo solo questo. Allora. Poi c'è il Si. Questo qui è il Si. Ingrandisci, regia. Questo qui è il Si. Ok, metti normale, regia. Metti normale. Grazie, regia. Grazie mille. Allora. Il Si è, ovviamente, dopo la. Quindi, questo qui. Questa specie di quadrato, ehm, l'ultima parte di questa specie di quadrato qui, nero, vedi? Che sono questi tastini qui. È l'ultima parte. Quindi, poi, dopo Si, abbiamo, Fa, La, Do, di nuovo Do. Perché le note si ripetono ogni volta. No, aspetta, mi sa che ho sbagliato. Perché non è come tu. Allora. Fa, La, Do, Mi. Sì, è giusto, molto giusto. Avevo ragione. Come sempre. Allora. Quanto sai a batteri? Allora. Poi, abbiamo Do. Che si fa così. Ah, quindi una cosa. Mi sono dimenticato di farvi La. E via. Cos'è a me? La. Poi, mi sono dimenticato di far Si. Sono poco un testardo. Si. Si fa. Si. E basta. Poi, Do si fa. Do. E basta. Faccio veloce. Perché deve finire veloce questo video. Se no ci mettiamo due ore. E io non voglio. Non voglio. Sinceramente. Allora. Dopo, Do. Abbiamo. Mi. Sol. Si. Re. Re. Oh, sta cadendo tutto. Stai registrando? Io e la regia ci siamo fatti verizzate. Perché se andiamo a properissimo. Madonna mia. Vengiamo ridicolizzati. Proprio male. Oh mio Dio. Che palle. No. Scusate per la parolacina. Però. Scappa ogni tanto. Allora. E la mamma è arrivati. Do. Mi. Sol. Si. Re. No. Aspetta. Sì. Mi. Si. Re. Questo è un altro re. Non è tipo. Questo re. È un altro re. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. È un altro re. Allora. Re. Poi. Dopo il re. Abbiamo il. Fa. La. Do. Mi. Abbiamo il. Mi. Che. Il mi. Si fa così. Mi raccomando. Le note si ripetono. Questa. Non è un altro mi. Allora. Si fa così. Guardami. Mi. Mi. I. E basta. Poi. Abbiamo. Dopo il mi. Abbiamo il. Mi. Sol. Si. Re. Fa. Abbiamo il fa. Che. Si fa così. Fa. Allora. Abbiamo finito. Per la parte 2. Faremo questo. Questo qui. Quindi mettete like. Fatelo. Per favore.